Luca Benedetti, 11 vittorie alle spalle l'anno scorso tra i direttanti e un bambino in arrivo ma soprattutto una nuova società per puntare ad un'altra stagione di altissimo livello. Sì, una bambina in arrivo che sarà la cosa più bella, che sarà a metà marzo nel pieno delle corse e ho scelto questa squadra perché mi sono sempre trovato bene con Bertoletti in primis, con Bigli e con Angelo e ho detto torniamo lì, che so che sono seguito bene, è un'ottima squadra per quello. Che ambiente hai trovato? Ma siamo un ottimo gruppo e vedo che siamo tutti agguerriti, che tutti hanno voglia di fare, ci si trova spesso in ritiro e per le corse si sente spesso anche tra compagni e diciamo che anche se siamo in venti siamo belli uniti tutti, al meglio. Dopo una stagione che ti ha visto vincere ben 11 gare è difficile chiedere di più, ma che sogni ha nel cassetto Luca Benedetti? Ma il sogno mio è sempre quello di passare professionista, passando per merito mio professionista e sogni, la mia testa è ripetere una stagione come l'anno scorso e sperando di trovare un contratto valido nelle mani. E poi niente, c'è poco da dire, io penso a pedalare testa bassa e menare, strada facendo vedremo. Scegli tra tutte le gare del calendario una, quella che ti piacerebbe assolutamente vincere nel 2014? Ma penso proprio Capodarco, anche il De Gasperi che ha Trento e una delle due.